La Serie D abbraccia l'ultima sosta della stagione, la Pasqua ferma il campionato e allora la 29esima anticipa nel turno infrasettimanale. Avezzano Campobasso allo Stadio dei Marsi, si entra nel rush finale, si gioca per disegnare lo scenario del post 34esima giornata. Resta aperto il discorso playoff, Biancoverdi a caccia di tre punti per blindare il terzo posto. Campobasso tradito da un epilogo di stagione non all'altezza delle aspettative. Non c'è Giampaolo squalificato, non ci sono neppure Bianciardi, altra vittima del giudice sportivo. Sbardella ancora fermo dall'infortunio rimediato nel match col Francavilla e Chico Fanti per lui problemi muscolari. Rispetto al derby con l'Aquila cambia qualcosa nelle scelte di partenza, c'è Kras, esterno di difesa e Bisegna si accomoda a centrocampo accanto a Persia. Al settimo il primo spunto è del brasiliano di casa, Kras in profondità per Dos Santos che guadagna metri e prova a spostarsi sul sinistro. Conclusione sporcata, Riccio senza problemi. Al dodicesimo a fondo Mancino, traversone in area, Pellecchia diretto in porta, ancora la retroguardia molisana a metterci una pezza. Al ventunesimo la prima reazione ospite, palla lunga a pescare Varsi, botta dalla distanza sul fondo. Francavara ha ritmi non altissimi, ne risente lo spettacolo. Per un'azione degna di nota voliamo al quarantatreesimo, calcio d'angolo Avezzano, Bisegna dalla bandierina, sfera sul primo palo, Dos Santos sottoporta. Il colpo di testa si perde sopra la traversa. Finisce qua il primo tempo, finale sottotono, squadre a ragionare per 15 minuti. Si riparte a formazioni invariate, l'Avezzano sembrerebbe voler alzare i ritmi. Calcio d'angolo dopo appena 80 secondi, menna a staccare, palla a incrociare, di un niente al di là del legno, la destra di Riccio. Al sesso del prete dalla scossa ai suoi, azione personale, percussione sulla destra, l'esterno si infila tra Deramo e Lombardo e conclude sul primo palo, Lombardi la battezza fuori. Al quarto d'ora Bisegna lancia sul filo Pellecchia, il giocatore campano col mancino sul primo palo, Riccio coi pugni. Tre minuti dopo Dos Santos fugge dalla linea avversaria, punta l'area e vede lo specchio, il mancino è fuori misura. Al diciannovesimo è ancora il brasiliano protagonista, confusione in area ospite, Dos su una palla vacante interviene senza riuscire a deviani in rete. Sul cambio fronte Varsi impensierisce Lombardi e sul pezzo il portiere dell'Avezzano. A metà secondo tempo la svolta della gara, Virgilio richiama Dos Santos e butta nella mischia di Curzio e proprio lui dopo neanche una manciata di secondi sblocca la gara. Manovra sviluppata sulla destra e accompagnata dalla squadra Pellecchia a mille, mette in mezzo di precisione. Il neo entrato è al posto giusto, al momento giusto e gonfia la rete facendo esplodere il Dei Marsi. Cambio anche per Foglia Manzillo, fuori Gomez dentro Balestrieri. Venticinquesimo Cerone, vede Riccio fuori dai pali e prova l'Eurogoal, la palla di pochissimo sopra lo specchio. Al trentasettesimo doppio cambio per il campo basso dentro Marzano e Strianese, fuori rispettivamente del Prete e Amabile. Cinque minuti anche per Besana, può rifiatare Bisegna, Crass torna davanti alla difesa. Tre minuti dopo fuori anche D'Eramo in campo Marco a Catullo. Si giocheranno cinque minuti di recupero nonostante il ritorno del campo basso. L'Avezzano blinda la solita difesa e porta a casa tre punti che sanno di certezza. Bianco Verdi sempre più leader, nessuno come loro in questo 2018 per tenuta fisica e mentale e soprattutto per i numeri infilati nel girone di ritorno. Mister, innanzitutto una domanda un po' sul personale. È un'emozione diversa quando si guida la panchina da soli? Sì, grande emozione, grandissima emozione. Una buona responsabilità grazie ai ragazzi, però una partita sofferta, sì. Possiamo dire che c'è del merito sicuramente dalla gestione tecnica dei cambi se arriva a questo risultato? I cambi sì, tutti i ragazzi, anche chi sta in panchina, è pronto a dare tutto, il massimo, come quelli 11 che stanno in campo, sono 20 i titolari, lo sanno i ragazzi, e chi entra è pronto a dare il massimo come gli 11 che scendono in campo. Una Pasqua piacevole davvero per tutti, anche per quel Di Curzio che fin qui era un pochino scontento, perché non era andata proprio benissimo dal suo arrivo, oggi invece è lui il protagonista. Sì, ma noi sappiamo che Di Curzio è un giocatore importante, l'abbiamo acquistato, il presidente l'ha acquistato per dare tanta svolta, tanta qualità in avanti insieme a Dos Santos, però va bene, sono contento per lui che si è sbloccato finalmente, speriamo che continui, va bene, tre punti pesanti e buoni. Allora, ultima considerazione, Avezzano leader in questo 2018, nessuno come l'Avezzano per prestazioni, per risultati utili, che ricordiamo sono 12 a questo punto, un anno d'oro. Sì, un anno 2018 da incorniciare, speriamo che continuiamo, 12 risultati consecutivi, va bene, positivi, speriamo che andiamo avanti così, facciamo un buon regalo all'Avezzano, alla città e soprattutto al presidente che sta investendo tanto.